Quattro giorni di manifestazioni da oggi a domenica come testa di accoglienza, progettazione e integrazione di culture diverse. Palermo, laboratorio del dialogo tra le culture, un esperimento nuovo che parte al confronto istituzionale e sociale, proprio riconoscendo alla città di Palermo il suo ruolo di cerniera tra culture, arti e tradizioni cresciute sulle sponde del Mediterraneo e non solo, sono stati scelti i progetti ed eventi che possano indagare la complessità e le sfide del presente. Nell'anno europeo del patrimonio non si poteva non confrontarsi con i tesori materiali ed immateriali riconosciuti e protetti dall'UNESCO. Attorno ad un tavolo di dialogo unico come Love Difference, l'opera di Michelangelo Pistoletto, che l'artista biellese ha consegnato a Palermo fino a dicembre come messaggio di pace e solidarietà, si discuterà della Festa Europea della Musica che il 16 giugno, in una sorta di anteprima della festa in programma il 21 giugno, porterà a Palermo mille giovani provenienti da tutta Europa. A Michelangelo Pistoletto verrà conferita sabato prossimo la cittadinanza oraria della città di Palermo, mentre per le strade del centro storico sfileranno anche gruppi del mandorle in fiore. Palermo è una città che accoglie la diversità come un valore aggiunto necessario, ha detto l'assessore alla cultura Andrea Cusumano, e si fa portavoce dei valori di scambio e condivisione delle ricchezze e del patrimonio culturale del mondo. L'Europa e il Mediterraneo come luoghi in cui e attraverso cui diffondere i valori della comunità umana al di là di divisioni e paure. Credo che sia la conferma del messaggio che Palermo manda al mondo. Abbiamo una sola razza al mondo, la razza umana, ma abbiamo molte culture. Palermo è un luogo di incontro di diverse culture che si riconoscono nell'unica razza umana e questo mette insieme in questi quattro giorni, mette insieme il riconoscimento UNESCO col patrimonio arabo normano, le cattedrali di Monreale Cefalum, mette insieme il mandorle in fiore, mette insieme Palermo capitale della cultura, mette insieme l'anno europeo del patrimonio culturale che si tiene a Palermo in altre quattro città d'Europa. Mette insieme sostanzialmente una straordinaria opera di pistoletto che raffigura quel Mediterraneo che è per noi un oceano di pace e di diritti e non un lago di periferie e di guerre e Palermo in questo contesto è certamente capitale, ma non perché è capitale in termini formali, ma perché valorizza il capitale umano che è la grande risorsa di convivenza di questa città. Sono quattro giorni di delirio in un anno di deliri, carichi di entusiasmo, carichi di futuro e carichi di cultura. Cosa ci dobbiamo aspettare post Palermo capitale della cultura? Che il titolo ci viene tolto, viene dato a qualche altra città e noi restiamo capitale.